Si è tenuta alla sala della Vaccara il workshop Spremi le idee giovani, opportunità del progetto Perugia 2018, organizzato dal Comune di Perugia e dal Forum regionale dei giovani dell'Umbria, per illustrare le opportunità offerte dalla candidatura di Perugia a Capitale Europea dei giovani 2018. L'assessore del Comune di Perugia al marketing territoriale Michele Fioroni ha voluto sottolineare come Perugia 2018 è l'occasione per ripensare il territorio in maniera giovane e attivare nuovi schemi di pensiero, dare nuove possibilità ai giovani talenti di trovare un'opzione di lavoro nel nostro territorio. Ma per Fioroni Perugia 2018 è soprattutto una sorta di campo dei miracoli, dove ogni talento investito può generare ricchezza, sviluppo, evoluzione e dove il cambiamento va concimato, perché il talento non è solo conoscenza, è creare un contesto ambientale in cui il genio individuale può diventare sistema collettivo. Un momento di confronto e condivisione dove Perugia vuole essere la città che attrae i giovani nuove idee, innovazione e nuove imprese. Perugia, dopo essere stata selezionata tra le cinque finaliste lo scorso 29 aprile, è pronta per la presentazione a Bruxelles della proposta integrata e per l'esito finale il prossimo 27 novembre a Madrid. Grazie.